Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura la cronaca è precipitato da 15 metri prima di impattare al suolo. Non c'è stato nulla da fare per Alessandro Angelucci, 34 anni, di Pescara, collaboratore dell'Università d'Annunzio, dove aveva tenuto un corso sul teatro medievale nell'ambito del Master di primo livello in teoria e pratica di teatro e musica. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, vedete le fotografie del recupero del corpo in Turchia, nel distretto di Karasawa, circa 200 km dalla capitale Istanbul. L'incidente è avvenuto nel corso di un'escursione nella zona naturalistica di Cocali. Angelucci avrebbe perso l'equilibrio cadendo in un burrone. Prima di essere riportato in Italia, le autorità turchi hanno disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo per chiarire la dinamica della morte. Su Facebook c'è stato anche un post della sorella di Angelucci Giovanna. Mi scuso ma non riesco a pensare di rispondere perché non so cosa rispondere, ha scritto nel post. Vi chiedo aiuto amici per avere informazioni sulla associazione per la quale Alessandro è partito. Un commento su questa vicenda è arrivato anche da Marco Presutti, che era un suo amico e che è il presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Crociani. Presutti ha ricordato come il ragazzo avesse una passione straordinaria per il Medioevo, la storia bizantina, e andasse spesso in Turchia per effettuare degli studi più approfonditi. Ovviamente nelle prossime edizioni del Tg6 vi forniremo altri dettagli su questa storia. Andiamo avanti con la cronaca e ci spostiamo all'Aquila. La Procura ha chiesto il processo per 29 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta nata dopo il crollo di un balcone all'interno del progetto case. Vediamo il servizio di Giorgio Alessandri. Il sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila, Roberta Davoglio, ha chiesto il processo nei confronti di 29 indagati nell'inchiesta sul crollo di un balcone di un alloggio della palazzina antisismica della New Town di Cese di Preturo, una delle 19 del progetto case, il mega insediamento realizzato dopo il terremoto del 6 aprile 2009 per dare un tetto a oltre 16.000 aquilani, alloggiati in circa 4.500 appartamenti. Il crollo è avvenuto il 2 settembre 2014, quando un balcone in legno si è staccato dal terzo al secondo piano a causa del materiale scadente e difetti strutturali nelle costruzioni, come accertato dalle perizie dopo un anno di indagini. A seguito delle verifiche, infatti, è emerso che i balconi furono costruiti con legname non idoneo, senza collanti, senza certificazioni, montati con inferriati malmesse e differenti rispetto alle previsioni del progetto. Dai sopralluoghi dei periti e tecnici fu riscontrata assenza di guaine e altri requisiti tecnici fino a quando una delle terrazze è marcita ed è crollata. E ancora, una fornitura illegale che ha configurato una truffa ai danni dello Stato di ben 18 milioni di euro. L'operazione di sequestro, portata avanti in conseguenza del crollo dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato dell'Aquila, del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale e della Sezione di Polizia Giudiziaria in Servizio presso la Procura, ha portato ad apporre i sigilli su 800 balconi in 494 appartamenti. Le accuse a vario titolo per tecnici e responsabili della costruzione delle New Town, di imprese e del Comune dell'Aquila sono di crollo colposo, truffa in pubbliche forniture e una serie di falsi. Gli indagati originari erano 37, ma il processo è stato richiesto per le 29 persone citate nel decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Romano Gargarella ed è seguito dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, di beni e disponibilità finanziarie per oltre 18 milioni, equivalente al valore dell'appalto vinto da Futur Aquila, società consortile a responsabilità limitata, costituita da tre imprese napoletane per la realizzazione di uno degli insediamenti. Ed è stato revocato lo sciopero regionale di 4 ore del trasporto locale programmato dalla Filte CGL Abruzzo per il 10 giugno. Era stato revocato anche lo sciopero dello scorso 27 maggio. Lo rende noto lo stesso sindacato. Le motivazioni della revoca, si legge in una nota, sono ascrivibili ad una serie di atti formali ed impegni assunti dalla Regione rispetto alle rivindicazioni oggetto dello sciopero regionale la predisposizione di una legge per l'individuazione dei servizi minimi essenziali e la realizzazione, entro la fine della legislatura, del sistema tariffario unico regionale. Adesso torniamo a ieri pomeriggio, quando c'è stato un presidio dei consiglieri regionali e comunali di Forza Italia Pescara per dire no all'arrivo di un centinaio di nuovi immigrati in un albergo della Riviera Sud, proprio di fronte alla spiaggia. Il servizio di Paolo Renzetti. Rapposelli, arrivano nuovi immigrati a Pescara, qui nella zona di Pescara Sud, due passi dello stadio. Oggi avete organizzato questo banchetto per dire no a questi nuovi arrivi. Perché? Noi con questo presidio permanente vogliamo bloccare questa iniziativa, ma ripeto, non perché siamo contro a questa attività di accoglienza, ma riteniamo che il sindaco non si sia espresso, non abbia soprattutto dato suggerimenti e indicazioni al prefetto, il quale prefetto, come altissimo funzionario dello Stato qual è, non può fare altrimenti, se non in assenza, come in questo caso, di indicazioni da parte del sindaco. Sono immigrati e non profughi, perché in gran parte non fuggono da guerre o da persecuzioni, certamente fuggono da condizioni economiche disagiate. In queste condizioni economiche disagiate, però, l'Italia non può accogliere tutto il mondo o tutta l'Africa e certamente non lo può fare Pescara. Se poi l'assenza perdurante di un sindaco, che è stato certamente avvisato dal prefetto di questa necessità, fa in modo che una cooperativa X sfrutti la volontà esclusivamente imprenditoriale di un albergatore e riempia all'inizio della stagione estiva, al centro della Riviera Sud, in mezzo alle case fatte con tanti sacrifici dei pescaresi e quasi di fronte al porto turistico un albergo di profughi, non solo non si sta aiutando questa gente, ma certamente si sta danneggiando Pescara. Il nostro è un no assoluto, perché riempire un albergo sulla Riviera Sud all'inizio della stagione estiva di profughi per una città turistica è una follia. Questa mattina è arrivata la replica del sindaco di Pescara Marco Alessandrini, che ha ribadito la vocazione all'ospitalità della città di Pescara lanciando nuove politiche di integrazione. Sentiamo Francesca Romana-Testi. Il centro-destra si scaglia contro il sindaco di Pescara per il caso immigrati. Proprio ieri si erano riuniti per una raccolta firme che impedisse l'arrivo di nuovi ospiti in un albergo del lungomare Sud di Pescara. Un colpo all'economia del turismo, secondo Lorenzo Sospiri e Fabrizio Rapposelli. A rispondere oggi è Marco Alessandrini che li accusa di strumentalizzazione politica. Verità è naturalmente diversa. Il sindaco non ha una competenza specifica sul punto che è competenza del Ministero dell'Interno. Qualche numero che aiuta a capire i termini della questione. L'Abruzzo al pari di Trentino, Alto Adige e Sardegna ospita il 2% dei migranti in Italia e siamo al penultimo posto nella classifica. L'ultima è la Basilicata che ne ospita l'1%. Detto questo, la questione nasce dalla disponibilità resa da alcune strutture alberghiere ad ospitare migranti e quindi essendoci questa disponibilità resa d'inverno essa permane d'estate. Nessuna modifica la politica dell'ospitalità, ribadisce il sindaco che annuncia anche l'introduzione di attività di integrazione. È forse un caso piacevolmente fortuito ma proprio oggi 15 migranti ospiti delle strutture della Caritas iniziano lavori socialmente utili presso il comune per in qualche modo restituire alla comunità che lì ospita un servizio e per favorire l'integrazione. Restiamo alla città di Pescara la movida notturna provoca ancora lamentele in via Muzzi gli esercenti e residenti continuano a denunciare schiamazzi e danneggiamenti ai negozi durante le ore notturne. E questa è in ordine di tempo l'ultima vetrina spaccata nella notte si parla della movida di piazza Muzzi e gli esercenti che si trovano proprio in questa via quella adiacente all'ingresso del mercato coperto parlano di un fenomeno che ricorre spesso. Piazza Muzzi è ancora al centro delle polemiche dopo il restyling che prevedeva una nuova era per l'intero quartiere oggi a sovrapporsi sono più voci da un lato quella dei residenti che lamentano schiamazzi notturni e dall'altro quella degli esercenti che sono vittime di danneggiamenti dei locali. Ultimamente ci sono state frazioni nei locali della zona e tutto qui danni, più che altro danni che però danno fastidio. Tutto questo è riconducibile al periodo in cui è stata rinnovata la piazza e si è spostata alla movida? Beh sì, più o meno e tutti questi episodi prima non accadevano erano molto più sporadici. C'è la gente che va a dormire presto perché la mattina si deve alzare naturalmente vuole dormire la notte. È una preoccupazione l'estate adesso? Se qua come l'anno scorso faranno mettono la musica quelli che ballano allora va bene perché è anche bello vederlo ma se certamente lasciano così ognuno fa quello che vuole. Lamentali arrivano anche dagli esercenti del mercato coperto che dal canto loro soffrono la riduzione dei parcheggi che limiterebbe molti clienti. All'inizio sono stati per i lavori perciò ci hanno portato dei danni enormi abbiamo perso un parte dei nostri clienti e in più a noi ci ha creato dei problemi perché non c'è più viabilità non c'è parcheggio non c'è accesso al mercato come c'era una volta la spesa, fare la spesa pesa non è lo shopping e più che altro c'è la sporcizza ci ha creato altri problemi e già questo mercato aveva delle sue problematiche c'era qualcuna di più anche se l'amministrazione cerca di risolverli non è che l'amministrazione sa con le mani in mano però i problemi ci sono. E adesso ci spostiamo all'Aquila visita questa mattina nei locali del Consiglio regionale e dell'ex edificio Gil tutte le modifiche e le tempistiche dei lavori di ristrutturazione dopo il sisma nel servizio di Daniela Rosone 9 milioni di euro quasi di lavori per riqualificare il palazzo del Consiglio regionale alla Villa Comunale dell'Aquila a 100 giorni dall'inizio dei lavori un tour per valutare lo stato di avanzamento una delle chicche del progetto è l'abbattimento come è noto della recensione attuale del complesso con la chiusura di parte di via Michele Iacobucci e la fusione degli spazi attuali con la parte centrale della villa un modo anche per aprire lenti alla città ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio sarà una struttura ricollegata completamente con la città dell'Aquila quindi attraverso anche la pedonizzazione della strada frontale la riconnessione del parco della villa dell'Aquila quindi diventerà un elemento centrale per la villa non solo pubblica ma anche cittadina di questa città e degli abruzzesi in generale l'atrio dell'emiciclo cambierà e anche le scale di cemento armato che portavano ai piani superiori scompariranno la sala Michetti invece diverrà un giardino d'inverno con una copertura trasparente ha spiegato il professor Lucio Zazzara progettista assieme all'ingegner Giacomo Di Marco adesso invece si avrà un altro respiro quando si verrà qui ci saranno le piante sarà una cosa molto bella perché questa copertura sarà trasparente quindi sarà un ambiente soprattutto nella cattiva stagione molto piacevole per chi si troverà dentro l'emiciclo spazio anche a biblioteca e pinacoteca per riorganizzare l'immenso patrimonio librario della regione Abruzzo di circa 7000 volumi come aveva annunciato il direttore del consiglio Paolo Costanzi grazie al lavoro di Rita Centofanti Di Pancrazio ha anche ricordato come l'ex Gil andrà per l'85% dei suoi spazi al Gran Sasso Science Institute a realizzare i lavori è un ati di imprese capeggiata dall'aquilana Rose di Lizia con ricci costruzioni e elettroidraulica Silvi l'ingegner Riccardo Vetturini coordinatore tecnico dei lavori ha spiegato invece la strategia dell'isolamento sismico che prevede un intervento importante a livello di fondazione per isolare il fabbricato dal terreno l'obiettivo ora è sbloccare altri 2 milioni di euro per il famoso ascensore 500 mila euro che dal mega parcheggio di Colle Maggio possa portare al centro dell'Aquila in 60 secondi via dei giardini e per altre opere del consiglio regionale ovviamente tutto è in divenire ma la struttura del complesso monumentale non andrà toccata questa è una certezza ed ora torniamo a Pescara in curio e degrado a Borgo Marino Sud lo storico quartiere di pescatori versa in condizioni pessime i residenti denunciano la latitanza delle istituzioni una denuncia per degrado e abbandono muri con evidenti segni di umidità crepe sulle facciate sporcizia nelle aiuole erba alta la minaccia dei topi bloccata con delle improvvisate gittate di cemento e un'intera comunità che chiede sicurezza a pescare i residenti di Borgo Marino Sud esprimono tutta la loro esasperazione cambiata la giunta e chiaramente loro dicono che si sono ritrovati in un pozzo di guai e hanno tolto gli 810 mila euro stanziati per questi tre palazzi ad altri ad altri ad altri quartieri dopo di che ci torsero anche i 176 mila euro per il centro sociale nella piazzetta adiacente via Town de Revel dietro l'altro palazzo nel vecchio ci diciamo ripetè il discorso che servivano per altre cose più più indicate non compare tra le graduatorie per lo stanziamento di fondi Borgo Marino non è mai citata eppure il suo stato di degrado è evidente e la sua posizione è adiacente proprio a una zona votata alla rinascita e cioè l'area dell'ex cofa dove spicca il simbolo di Pescara il ponte del mare uscì una comunicazione del comune di Pescara dove elencarono tutte le zone i quartieri popolari dove andavano spese questi maledetti soldi non maledetti maledetti per noi maledetti per gli altri e non siamo gelosi o invidiosi però c'è un po' ciascuno è una situazione dove i palazzi sono pericolanti secondo voi? molto pericolanti qui sotto c'è spazio c'era spazio per non far salire l'umidità sopra adesso è pieno di topi e di acqua e di sabbia giustamente cambiamo argomento oggi è il quarto compleanno di Noemi Sciarretta la piccola che combatte contro la SMA suo padre Andrea per festeggiare le ha scritto una lettera aperta come inno alla vita principessa oggi compi quattro anni piccolina è passato un altro anno un anno dove giorno per giorno in ogni istante combatti contro la SMA affinché prevalga la vita per te dolce piccola Noemi è stato un anno molto duro faticoso fatto di coraggio e determinazione nel combattere la malattia ma anche di momenti nuovi ed emozionanti come il tuo primo giorno di scuola materna ti sei ammalata spesso quando stai male e soffri per noi diventa tutto più difficile un semplice colpo di tosse inghiottire la saliva respirare per te è impossibile per questo ci desideri ogni istante accanto a te la tua giornata è piena di terapie e trattamenti che a te non piacciono e tolgono tempo al gioco e alle cose belle perché tu ami giocare Noemi nonostante tutto riesci ad essere felice rendere felici noi e chi viene a conoscerti perché è impossibile non innamorarsi dei tuoi bellissimi occhi come quando ti abbiamo portato per un giorno all'asilo un giorno che hai chiesto tu innamorandoti dei tuoi amichetti che con un sorprendente entusiasmo ti hanno accolto senza mai pensare alla tua disabilità ma abbracciando il tuo essere speciale ci insegni la vita ogni giorno trasmettendoci che malgrado non sappiamo cosa ci riservi non bisogna mai perdere il sorriso dell'essere vivi ti auguriamo di raggiungere presto l'atteso traguardo di gioia serenità e salute che arrivi la tua rivincita e che i tuoi più intimi desideri custoditi nel tuo cuore si avverino continua a guidarci nel meraviglioso viaggio che è la vita ma soprattutto con il tuo amore e la tua felicità sconfiggi la SMA come ci insegni tu dolce piccola Noemi senza mai arrendersi tanti auguri di buon compleanno nostro splendido amore mamma papà e Mattia e tanti auguri anche da parte nostra andiamo avanti la sfida dell'imprenditoria femminile la Confcommercio di Pescara questa mattina ha presentato il gruppo dirigente terziario donna e le iniziative per lo sviluppo delle imprese rosa una sfida all'imprenditoria tutta femminile vengono portati anche dei dati di quelli che sono nel comune di Pescara e nel territorio del Pescarese e le attività più utilizzate soprattutto dove investono di più le donne il quadro qual è? il quadro è decisamente positivo infatti abbiamo un aumento proprio in sia come dato occupazionale ma sia come dato di investimento l'unica pecca è ancora l'accesso al credito soprattutto nella fase dei finanziamenti e nel ricevere poi quanto richiesto perché a volte le cifre sono nettamente inferiori e quindi questo può essere un po' da contrasto allo sviluppo poi completo e pieno dell'azienda rosa in questo caso qual è il progetto il programma che viene proprio messo in campo per le donne? abbiamo partecipato a questo bando del terziario donna nazionale che è il progetto di una D-card dove si sviluppa questo circuito turistico unito al commercio e all'arte dove la donna turista viaggiatrice potrà venire a soggiornare nella nostra provincia e avere in dotazione questa card nella card verranno inserite non solo sconti ma anche gratuità ma anche percorsi di seminariali formativi presentazioni di libri la card infatti sarà reperita presso le strutture alberghiere perché nel momento in cui le donne arriveranno nelle strutture ricettive verranno informate con un'apposita mappa che verrà creata in questo circuito e con questa card ovviamente tutti i convenzionati quindi gli operatori che vorranno aderire a questo progetto avranno delle vetrofanie o comunque degli sticker che saranno appunto diciamo pro di card ultimati gli interventi di ristrutturazione post sisma riapre al pubblico il 2 giugno Palazzo Marchesale di Tossicia edificio storico simbolo dell'antica capitale della valle siciliana nell'occasione sarà inaugurata anche la mostra della pittrice Naif annunziata Scipione è stato un percorso lungo e difficile per recuperare questo palazzo perché le opere pubbliche quando c'era la gestione della protezione civile non venivano finanziate successivamente è nato l'ufficio centrale per la ricostruzione dove noi abbiamo presentato un preliminare per chiedere il finanziamento ma subito quando siamo arrivati al dunco c'è stata la trasformazione dell'USRC l'ufficio speciale per la ricostruzione dove i fondi per il recupero delle opere pubbliche ancora erano pochissime un accordo fatto con gli altri sindaci il ricordo Pietra Camela Fanadriano Castelli Colledara Arsita e Penna Sant'Andrea hanno dato l'assenso praticamente hanno dato la priorità a questa grande opere di Tossicia il 2 giugno alle 10 di mattina riaprirà i battenti il palazzo Marchesale con il raduno delle autorità civili e religiose presenti nel territorio e con l'occasione ci sarà l'inaugurazione dell'esposizione che rimarrà per 10 giorni aperta al pubblico all'interno della sala consigliare del palazzo Marchesale delle opere della pittrice locale annunziata a Scipione abbiamo con piacere aderito alla richiesta del direttore del museo di realizzare un prodotto che serve per portare il museo a tutti ai bambini ai diversamente abili nel pianeta a tutti coloro che avranno modo di conoscere questa realtà che pur essendo piccola ha un grande valore sia con il tour virtuale dei principali elementi architettonici di Tossicia e poi con questa idea di portare i quadri di Annunziata della Scipione nel mondo attraverso un tour completamente virtuale e adesso siamo allo sport apriamo con il calcio di Serie B e il Pescara sono andati esauriti già da ieri sera i tagliandi per i settori curva nord e distinti laterali quasi certamente la semifinale di ritorno di domani sera contro il Novara farà segnare il nuovo record stagionale di presenza all'Adriatico sul fronte formazione sarà assente il capitano Ledyan Memushay che è tornato alla corte delle città dell'Albania De Biasi che lo lascerà per la eventuale finale di andata di domenica prossima il difensore Fornasieri invita tutti a restare con i piedi per terra in vista della gara di domani ascoltiamolo nell'intervista di Paolo Renzetti Sì di reparto abbiamo giocato molto bene all'inizio non si poteva giocare quindi era una partita era più una battaglia che una partita però poi col campo che ci è asciugato sono uscite un po' di più le nostre qualità e comunque non è solo un lavoro di linea difensiva ma come ho sempre detto è di tutta la squadra dai nostri quartisti dalla punta centro campo che corre tantissimo durante tutta la partita per attaccare e difendere lo stanno facendo benissimo e niente dobbiamo continuare così siamo usciti vincitori ma dobbiamo già stare con la testa alla prossima partita mercoledì perché sappiamo che loro arriveranno ancora più cattivi di oggi e sarà un'altra partita tostissima Michele Fornasier qualche mese fa era il capo espiatorio dei problemi della difesa del Pescara oggi Michele Fornasier è il primo difensore del Pescara e poi arrivano Campagnaro e Zuparic e questo cosa vuol dire? No io sempre sono sempre stato sicuro dei miei mezzi grazie alla squadra agli allenatori ai mister e sei mai tolto però un sassolino dalla scarpa? No ma neanche ne ho bisogno perché come ho detto so quello che ho dato non ho nessun rimpianto e ogni partita io do il 100% poi è normale le cose a volte vanno bene a volte no però nel bene e nel male ho sempre cercato di continuare a fare il mio lavoro e anche se sono stato usato un po' come capo espiatorio non si sa fa parte del gioco in queste piazze poi ancora ancora un po' di più forse però è normale le siete prese con me le siete prese con tutti quanti quindi non è un problema per noi l'importante è venire fuori di squadra come abbiamo fatto adesso ci sarà un'altra partita difficilissima mercoledì e noi per ora pensiamo solo a passare il turno e essere concentrati su questa partita mercoledì poi chiunque ci sarà in finale ci penseremo se ci arriveremo da giovedì in poi e sono 22 i giocatori convocati dal tecnico del Novara Marco Baroni rientra Dickman che sarà in campo dal primo minuto al posto di Dell'Orco a sinistra conferma per Garofalo Vicari giocherà al centro della difesa al posto dello squalificato Trust nonostante il passivo dell'andata mister Baroni chiede ai suoi una prestazione importante all'Adriatico Cornacchia per cercare di riaprire i giochi in vista della finale no di sistema di gioco no sicuramente qualcosina qualcosa nell'undici iniziale cambieremo ma anche un po' per il tanto c'è il rientro di Dickman alcuni giocatori che hanno che hanno comunque in queste ultime due gare dato molto insomma vediamo qualcosina però cambierà poco la cosa importante è chiaro che sappiamo che il risultato dell'andata ti penalizza tanto però dobbiamo essere anche convinti di andare a fare una partita vera da parte nostra ma guarda ha visto a volte prepari le partite come è successo questa in casa e poi dopo escano un po' fuori per le condizioni climatiche un po' per alcune situazioni che si vengano a creare in campo è difficile in queste partite vi abbiamo anticipato bisogna sbagliare poco o niente e poi sulla base di quello fare la gara noi dobbiamo comunque rimanere noi stessi nel senso della compattezza della tenuta di squadra e andando a cercarci qualcosa con grande convinzione e determinazione perché ripeto ci abbiamo 90-95 minuti davanti dove possiamo riaprire la partita e adesso scendiamo in Lega Pro andiamo ad ascoltare le parole del presidente del Teramo Luciano Campitelli che spiega i motivi della scelta di Fabio Lupo quale nuovo direttore sportivo del Sodalizio Biancorosso l'intervista è di Jacopo Forcella Presidente Campitelli ha detto in conferenza stampa Lupo e Zauli hanno riacceso probabilmente una fiammella che si era un po' forse sopita adesso si riparte dunque con un nuovo spirito ma io credo che ce n'è proprio bisogno e prima che l'ha capito è stato Ivarini che è stato colui che che alla fine ci ha dato la strada anche per questo perché noi per come eravamo legati e per quello che lui aveva fatto negli anni sicuramente da parte nostra rimaneva ma lui giustamente dice qui dobbiamo dare un taglio col passato in modo che si riparte quindi devo dire e lo devo ringraziare che alla fine ha avuto ragione perché sia Fabio che il nuovo allenatore Zauli ci hanno un po' riacceso i motori ma sia non solo a noi credo ma anche a tutti i tifosi a Lupo consegnerà le chiavi del mercato è una squadra che per buona parte ha una rosa già fatta però poi bisognerà completarla io ho chiesto a lui quello che ho sempre chiesto a tutti quindi creare le prospettive per fare gol perché col gol tutto è possibile e poi capire quali di questi giocatori vogliono rimanere a Teramo hanno la determinazione avranno richieste diverse quindi noi oggi ci concentriamo per capire cosa offre il mercato ma dobbiamo andare a scopare quelle personalità che poi ci faranno la differenza come sono stati Rapadura e Donnarumma quindi oggi prendere un giocatore finito profilo che alla fine poi se non ti fa gli stessi gol come le noci le noci era un profilo da 12-13 gol e alla fine le noci non ha combinato niente quindi forse bisogna capire quei profili che da un momento all'altro possono esplodere ed essere questi i giocatori corretti e giusti per il Teramo dopo la retrocessione in serie D siamo all'Aquila ai vertici della società Rosso Blu hanno incontrato il sindaco e gli assessori manifestando la volontà di presentare domanda di ripescaggio in Lega Pro vediamo il servizio di Giorgio Alessandri La società L'Aquila Calcio 1927 ha avuto ieri mattina un incontro in comune con il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e gli assessori Emanuele Iorio e Maurizio Capri erano presenti per la società Rosso Blu il presidente Corrado Chiodi il vice Massimo Mancini e lo sponsor Eliseo Iannini l'oggetto della discussione in forma a una nota della stessa società è stato ovviamente la retrocessione della squadra e possibili scenari futuri legati a questo accadimento la società ha dichiarato che già dalla prossima Assemblea dei Soci il 6 giugno prossimo si lavorerà per una operazione di ricompattamento ribadendo l'impegno a portare avanti il progetto sportivo con una dovuta ripienificazione e riorganizzazione quanto mai necessaria questo a prescindere dalla categoria nella quale si giocherà attualmente la Serie D ma con un lavoro che già si sta avviando per presentare la domanda di ripescaggio nel corso dell'incontro si è parlato anche della questione stadio di Acqua Santa i cui lavori sono quasi ultimati la consegna infatti tra le altre cose elemento essenziale per la presentazione della domanda di ripescaggio la società Rosso Blu dunque auspica che la consegna possa avvenire in tempi rapidi e in tal senso ha avuto rassicurazioni dall'assessore Capri anche il sindaco Massimo Cialente si è detto determinato a non lasciare solo l'Aquila Calcio ed ha sollecitato tempi brevi e immediatezza per risolvere tutti gli ultimi problemi legati alla questione del campo e adesso una notizia di basket si giocherà questa sera alle 21.15 sempre a Montegranaro gara 2 di finale tra la poderosa e l'amatori Pescara marchigiani avanti nella serie a seguito della vittoria di domenica scorsa per 86 ad 81 dopo due tempi supplementari un risultato che si trascina dietro però pesanti polemiche per l'arbitraggio che secondo i dirigenti della squadra pescarese avrebbe condizionato l'esito del match amatori dunque a caccia del riscatto per portare in parità la serie a Pescara dove venerdì si giocherà gara 3 è tutto per quanto riguarda questa prima edizione del TG6 i prossimi appuntamenti sono alle 19 alle 23 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata a